La partita che deve fare è una squadra che deve salvarsi e che si presenta sul campo della prima in classifica. Detto ciò è chiaro che abbiamo avuto, soprattutto nei minuti iniziali, l'occasione per portare subito la partita dalla nostra parte. Siamo stati poco bravi nel trovare il guizzo giusto, nel trovare il gol, però siamo stati molto bravi a mantenere la calma, a rimanere in partita e a cercare continuamente l'episodio che potesse darci la vittoria. Alla fine credo che il lavoro svolto nell'arco dei 95 minuti abbia dato risultati giusti e una vittoria meritata dai ragazzi. Probabilmente chi mi ascolta e chi mi conosce conosce già la mia risposta, assolutamente niente calcoli. Questa era la quarta partita delle 10 di cui vi ho parlato un po' di tempo fa, al rientro dalla sosta. È andata molto bene anche questa, ora bisogna recuperare energie e preparare già da domani la quinta delle 10 finali che ci aspetta in un campo difficile contro una diretta concorrente.